Semplicemente che cosa ha rappresentato la ludotenda per Rovereto e come è stata utilizzata nel corso di quest'anno? Allora, la ludotenda ha rappresentato, posso dire tra virgolette, un ancora anche di salvataggio per quanto riguarda la comunità parrocchiale perché ci siamo ritrovati senza il parroco e senza la chiesa, quindi non avevamo un luogo dove poter celebrare la messa. I primi tempi si faceva all'aperto, poi il centro estivo per i bambini, quindi in caso di pioggia, di maltezza, non avevamo niente proprio. E quando Francesco ha telefonato per dirci che ci sarebbe stata portata questa struttura, è stata la manna caduta dal cielo perché veramente ci voleva. E da allora quando l'hanno è stata, adesso non mi viene il vocabolo, è stata portata, abbiamo cercato di organizzare un po' tutte le varie iniziative senza intralciare quello che era, quello che riguardava la celebrazione della messa, quello che riguardava la riunione della ONLUS perché nel frattempo è nata la ONLUS tutti insieme, Rovereto e Sant'Antonio, per quanto riguardava le assemblee che il sindaco convocava sia a Novi che a Rovereto, quindi diciamo che è stato un supporto, come anche adesso tutt'oggi c'è. Se non sbaglio non soltanto per i bambini ma un po' per tutta la popolazione. Per tutta la comunità poi perché adesso abbiamo iniziato anche a giocare a tombola al sabato sera con le donne, quindi anche questo vuol dire fare comunità, avere un centro di aggregazione poi alla fine perché è stato anche questo. Ieri sera per esempio abbiamo fatto la cena per i volontari che hanno messo posto dove c'era il cinema perché adesso il 29 c'è l'inaugurazione degli studi medici là in fondo al centro sportivo e cioè diciamo che il pranzo comunitario con i Trentini e con la Val di Nonne viene fatto qua, quindi oltre a questo verranno messe giù altre strutture per pranzare tutti insieme, quindi tutti i modi. l'abbiamo usata sempre, abbiamo aiutato anche i bambini della scuola materna i primi 15 giorni di settembre perché non avevano ancora finito di sistemare la sede, diciamo la scuola materna e quindi fino a metà settembre l'abbiamo tenuta a disposizione. Poi sono iniziate anche l'attività della parrocchia, cioè l'iniziazione cristiana, catechismo, così, aule non ce n'erano disponibili, quindi un po' qua, un po' all'incontrario che è un locale che abbiamo lì dietro sono state fatte comunque, abbiamo sempre cercato di mantenere quello che era sempre stato fatto quando c'era anche Donino.